Il campione olimpico dei 400 metri a Rio nel 2016, Van Nijkerk, detentore del record mondiale sulla distanza, non correrà questa sera al meeting di atletica in programma a Trieste. L'atleta infatti è risultato nuovamente positivo al Covid-19 dopo i nuovi controlli effettuati nel pomeriggio odierno. Un esito che ha sorpreso tutti per i risultati contrastanti. Venerdì l'atleta era risultato positivo al Covid-19 durante un test effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Friulana. Le analisi rifatte a Udine questa mattina avevano dato invece esito negativo. Nel pomeriggio il terzo tampone è risultato nuovamente positivo. Il campione in viaggio per Trieste per partecipare all'evento sportivo è così dovuto rientrare a Gemona del Friuli, dove invece i tamponi effettuati sui dipendenti dell'albergo Willi, struttura in cui sono ospitati gli atleti della squadra di atletica del Sudafrica, sono risultati tutti negativi. Stesso esito per i sette membri della compagine sudafricana, che ormai da diversi anni viene a svolgere la sua preparazione in Friuli. Aumentano invece i casi di importazione registrati in Regione, che oggi sono sette, e preoccupa la positività emersa nelle ultime ore di uno degli ospiti della caserma Cavarzerani. Lunedì, a tal proposito, è previsto un vertice tra Comune, Questura e Prefettura.